Frutti Antichi, un'edizione che si annuncia già da record al castello di Paderna, oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia, ma da tutta Italia arrivano anche i tantissimi visitatori. Lo scorso anno 10.000, quest'anno potrebbero sicuramente essere di più. In campo ancora una volta volontari FAI. Giovanna Canevari Caldani, sono la delegata FAI, referente Frutti Antichi, ormai da 20 anni. Tantissimi espositori, alcuni nuovi, perché la nostra ricerca dura tutto l'anno, e certamente anche alcuni nuovi. La mostra è nel rispetto dell'ambiente, dell'agricoltura, del paesaggio. Facciamo molta didattica, ci occupiamo dei bambini, di bellissimi laboratori con i bambini, e poniamo l'attenzione alla gente. Soprattutto è una mostra che rispetta il posto dove è stata creata e rispetta l'ambiente. Letizia Anelli, capo delegazione FAI Piacenza. Quest'anno la raccolta fondi verrà devoluta al Colle dell'Infinito, che è un bene che è stato affidato al FAI e si trova a Recanati, per il restauro di quello che viene chiamato l'Orto delle Monache. Quindi sempre un bene paesaggistico, ma anche di grande importanza per Recanati. In campo, come dicevo, tanti volontari anche oggi, no? È un evento molto impegnativo anche da gestire, da coordinare. Sì, assolutamente è un evento molto impegnativo perché abbiamo un'affluenza sempre molto alta di visitatori e quindi in collaborazione con il comitato organizzativo della mostra appunto mettiamo in campo le forze di tanti dei nostri volontari, giovani e meno giovani. Siamo più di 40, insomma, cercheremo di accogliere tutti col sorriso perché siamo molto felici di essere qui. Tantissimi espositori, tutti mantengono lo stesso tema che quindi è quello del frutto antico, è quello del prodotto biologico comunque selezionato con attenzione all'ambiente e al discorso ambientale, del biologico, eccetera. Sicuramente tutti gli anni ci sono novità perché c'è chi è nuovo, c'è chi ritorna ed è sempre interessante comunque fare un giro per prendere spunto per il proprio giardino. Quanti visitatori vi aspettate sulla base dei numeri degli anni precedenti? La media è per l'autunno, l'edizione autunnale, la media è di 10.000 visitatori.